Andrea Petta, uno dei riconfermati eccellenti del Bitonto per il nuovo campionato, per la nuova stagione. Andrea, come procede il ritiro di Camerino? Procede bene, direi che stiamo lavorando duramente, sia col mister che col prof, logicamente. Stiamo imparando a conoscerci, perché comunque ci sono tanti ragazzi nuovi, tanta gente che è arrivata quest'anno. Quindi ci dobbiamo amalgamare bene per iniziare nel migliore dei modi. L'intesa con i tuoi compagni di reparto, hai ritrovato Danilo Colella, ci sono tanti volti nuovi, a partire da Lanzola, con anche nel pacchetto dei centrali. Come cresce appunto l'intesa? Di giorno in giorno cresce sempre di più, comunque avere tutto questo tempo a disposizione prima che inizia il campionato è una cosa fondamentale per conoscerci e per capire le caratteristiche di ognuno. Io penso che da qui all'inizio del campionato saremo pronti. Andrea, il gruppo è un gruppo che dall'esterno sembra crescere in maniera serena, compatta. Tu che percezioni, che sensazioni hai? Sensazioni positive, sensazioni buone. Io penso che la società abbia fatto delle scelte importanti, ma soprattutto abbia scelto prima dei calciatori uomini. Quindi penso che ci siano dei grandi uomini all'interno dello spogliatoio e credo che questo sia un valore aggiunto. L'ultima domanda, per quanto riguarda invece le indicazioni, da un punto di vista sia fisico sia di squadra, avute dai due test, è vero, sono due allenamenti congiunti contro la rappresentativa di Caverino e del Potenza Piceno, ma già qualche indicazione si è avuta e poi Andrea Petta ha continuato a segnare anche in queste stati. Sì, le indicazioni sono buone, lasciando stare il fatto che comunque erano dei avversari abbordabili, però stiamo facendo quello che ci chiede il mister, lo stiamo mettendo in campo. Con quanto riguarda i miei gol, spero di farne il più possibile in campionato.